Presentiamo tre esperienze di interferenze angeliche, avvenute le prime due nel Salone del Centro Gesù Liberatore Margi Faraci e la terza nel Salone Parrocchiale della Noce, Palermo. Nella prima, il canto si inserisce quando l'Assemblea è in assoluto silenzio. Nella seconda, l'interferenza potentissima ed inaspettata si sovrappone al canto del celebrante e dell'Assemblea. Nella terza esperienza, l'interferenza accompagna il canto dell'Assemblea e del celebrante, potenziandolo e creando una fusione armoniosa tra cielo e terra di grande effetto. Il 25 novembre 1995, nel Centro Gesù Liberatore, durante la celebrazione eucaristica, al momento della consacrazione, molte persone dislocate in punti diversi del grande Salone percepivano chiaramente un canto melodioso accompagnato da molti strumenti musicali, come un grande coro che non si capiva da dove provenisse. La scuola Cantorum era in assoluto silenzio. Anzi, alcuni dei cantori che erano presenti, ascoltando il canto, restarono meravigliati perché non sapevano da dove provenisse quel canto. Al termine della celebrazione ci si premurò di ascoltare le cassette della registrazione per la curiosità di sapere se casomai il canto corale fosse stato registrato. Con grande sorpresa, notammo che effettivamente il canto misterioso era stato registrato e che quanto asserivano quelli che l'avevano ascoltato rispondeva a verità. Vogliamo fare ascoltare questo coro misterioso precisando che la cassetta su cui fu registrato era assolutamente vuota, nuova e sigillata. Un favore, veramente santo. Fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione presi il pane e resi grazie lo spezzò lo diede i suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi grazie a tutti Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. L'orile dei suoi discepoli disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questi in memoria di me». «Mistero della fede». Avete ascoltato il coro angelico del 25 novembre 1995. L'intensità del canto risulta bassa e, nella registrazione, è soltanto percepibile a tratti. Il maestro Roberto Sangiuliano, concertista del Teatro Massimo, ha attentamente studiato la cassetta ed ha affermato che per alcune peculiarità musicali non è naturalmente spiegabile e lui stesso ha voluto rielaborare il brano musicale che vi facciamo ascoltare. Il maestro Roberto Sangiuliano, concertista del Teatro Massimo, e lui stesso ha voluto rielaborare il brano musicale ed è diffato, a chi ci si tratta il mondo La rielaborazione del canto è ben riuscita, ma non arriva a produrre perfettamente l'armoniosa bellezza ed a suscitare negli ascoltatori il misterioso pathos che si sprigiona dall'originale.